Sono 43 le ordinanze di custodia cautelare in carcere e 14 soggetti finite domiciliari nell'ambito dell'operazione Cripto condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria che ha stroccato un traffico internazionale di droga coordinata dal procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri, dai aggiunti Giuseppe Lombardo e Gatano Paci. L'inchiesta nasce dall'operazione Gerri che nel 2017 consentì di sgominare una consorteria composta da elementi al vertice delle cosche Moleppi Romali di Gioia Tauro e Pesce Bellocco di Rosarno. Oltre che in Calabria, Iblizia ha impegnato circa 400 finanzieri in Sicilia, Puglia, Piemonte, Campania, Lombardia e Valle d'Aosta. Sono complessivamente 93 gli indagati, tra cui esponenti di spicco dell'Andrina Cacciolla Certo e Prenestì, che secondo la procura di Reggio Calabria avevano messo in atto un'organizzazione trasnazionale capace di pianificare ingenti importazioni di cocaina dal nord Europa e dalla Spagna e di piazzarla in buona parte alle regioni italiane e anche all'estero. Gli indagati avevano a disposizione una flotta di mezzi necessaria per raggiungere a destinazione la droga e potevano inoltre contare sull'utilizzo di schede telefoniche tedesche e sulla possibilità di recuperare e modificare ad hoc autodotate di doppi fondi così da renderle praticamente impermeabili ai controlli. La cocaina raggiungeva diverse piazze di spaccio. Tra i personaggi principali della rete c'era un cittadino domenicano, Umberto Alexander Alcantara. Era lui che garantiva ai calabresi i contatti diretti con i fornitori sudamericani. Tra gli indagati Marco Paladino, legato alla Cosca Gallace di Guardavalle e stabilmente residente in Germania, che aveva sia la funzione di corriere che quella di procacciatore di partite di cocaina provenienti dal nord Europa. In Germania pure Domenico Tedesco con il compito, secondo gli inquirenti, di fornire appoggio logistico ai referenti dell'organizzazione. L'inchiesta inoltre ha dimostrato contatti con esponenti della Cosca Cappello di Catania per la creazione di una rotta in grado di far giungere la cocaina a Malta. Ai domiciliari Ivan Meo, che nel 2018, assieme a due soggetti, si era recato in Via Mare a Malta e ha riportato in Italia oltre 50.000 euro provento di cessione di droga. Durante l'indagine è arrestato in fragranza 10 corrieri e sequestrati circa 80 kg di cocaina.